Musica Bentrovati dai spettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 4 dicembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni meridionali avremo tempo stabile e spesso soleggiato, mentre sulle regioni del centro nord avremo tempo instabile accompagnato dalla possibilità di piogge e rovesci. La ventilazione risulterà proveniente dai quadranti meridionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda le temperature queste risulteranno in lievamento su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio sull'Abruzzo al primo mattino avremo condizioni di tempo coperto su gran parte del territorio regionale ad eccezione del nord del Terramano dove insisteranno deboli piogge. Tuttavia nel corso del pomeriggio ma ancora di più dalla serata le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente con i cieli che si presenteranno nuvolosi o molto nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.